C'è da fare veramente tantissimo. Sono le parole del Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri, intervenuto a Crotone sabato sera incontrando attivisti del Movimento 5 Stelle e rappresentanti delle associazioni durante un focus sulle infrastrutture del crotonese. Cancelleri, che lunedì mattina ha concluso il tour calabrese che lo ha visto impegnato a Gioia Tauro, Vibo Marina, Sibari, Cosenza e la Mezzaterme, ha fatto il punto sulla situazione di porto, stazione ferroviaria, aeroporto e strade. C'è molto lavoro da fare e il Vice Ministro ha affermato che vuole tempi certi da tutti gli attori coinvolti. Il Commissario Agostinelli abbia già messo in piedi una buona strategia per quanto riguarda il porto di Gioia Tauro. Questo può essere replicabile sicuramente nel porto di Crotone. Per quanto riguarda la stazione dobbiamo anche lì intervenire sull'elettrificazione della linea. C'è già un gran lavoro che si sta facendo, bisogna velocizzare ancora di più. Con l'amministratore delegato gentile di RFI devo fare il punto in settimana anche perché poi voglio ritornare a dare risposte su questo territorio. Voglio capire quali sono i tempi di realizzazione e soprattutto quanto questo territorio potrà cominciare a soffrire di treni. Nell'attesa di avere il frecciargento che possa collegare Gioia Crotone con Sibari e poi tutto il resto, dobbiamo studiare alternative che devono essere già subito da poter mettere in campo. Per quanto riguarda l'aeroporto, continuità territoriale assolutamente, ci sono 13 milioni, oltre 13 milioni di euro a disposizione. Su questo dobbiamo lavorare perché dobbiamo chiudere questa possibilità. Quindi conferenze di servizi, quindi decisione delle tratte, quindi accordi con Bruxelles e immediatamente poi i bandi per affidare ad un vettore la possibilità di muoversi anche per questa parte della Calabria. Grande nodo spinoso, è 106, inaccettabile da tutti i punti di vista, ormai è veramente una strada obsoleta che non corrisponde più né alla viabilità del nostro tempo e neanche agli standard di sicurezza. Qui ci sono due interventi importanti, il collegamento con Catanzaro che è già messo da ANAS nel cronoprogramma e si deve realizzare e anche su questo tempi certi voglio averli, voglio vedere progetti e voglio discutere anche con i sindaci dei due comuni perché è giusto che anche loro prendano visione di quella che è la strategia che sta mettendo in piedi l'azienda di Stato. Poi dobbiamo andare a realizzare quella che deve essere il miglioramento invece della 106. Ci sono tanti soldi messi lì però ANAS ancora non avvia le progettazioni, non li spende e su questo io chiaramente non voglio tollerare, non transigo, quindi anche lì voglio sapere tempi certi e tutto quanto. Grazie. Grazie.